Il Praetitivo rappresenta una stazione di riferimento per il nostro territorio, per la nostra provincia. Come tutti sanno c'è stato questo bando, il 24 si è concluso, non è arrivata nessuna offerta, adesso la situazione diventa abbastanza drammatica. Dobbiamo ricordare che io ho presentato, chiaramente il 5 Stelle ha presentato una risoluzione consigliare lo scorso mese, il 28 ottobre si è approvata all'unanimità dal Consiglio. Della morte dei Praetitivo si è parlato questa mattina a Vera Mattina. Il consigliere del Movimento 5 Stelle, Riccardo Mercante, ha spiegato che nei prossimi giorni si darà una riunione in regione con il vicepresidente Lolli ed ha annunciato la costituzione di un pool di operatori dei Praetitivo che collaboreranno con la Gran Sasso Terramano alla riapertura degli impianti. il consigliere regionale Mercante si dice però ottimista. Questa risoluzione prevede un intervento della regione per sbloccare la situazione, per convocare tutti i portatori di interessi, gli operatori turistici, i lavoratori e le istituzioni a un tavolo per divenire una soluzione concreta per il rilancio della stazione. Io sono ottimista, però dobbiamo evidenziare l'immobilismo della politica. Questa cosa la dobbiamo rimarcare perché è impossibile che arriviamo a ridosso di dicembre e una stazione di riferimento di quel livello, di quella portata, non è in grado di poter programmare la stagione. Allora, la regione Abruzzo che cosa sta facendo tramite ovviamente il suo impegno? Allora, la regione Abruzzo intanto un mese è stata in silenzio. Evidenzio pure il silenzio dei consiglieri regionali del Terramano, perché salvo forse un sollecito da parte di Gatti non ho visto nulla. Per Mercante il bando non poteva che andare deserto. Non posso emanare un bando fissando un canone di locazione a 250 mila euro. Poi, la soluzione al problema che arriverà dagli operatori turistici dei prati di Tivo. Mi risulta che sia stata fatta una proposta da parte degli operatori turistici. Credo che si siano consorziati e proporranno alla Gran Sasso Terramano un'associazione in compartecipazione della stazione. Grazie.